La scuola media Pavoncelli di Cerignola, diretta dal preside Panebianco, ha ottenuto un prestigioso risultato in ambito musicale. Il musical preparato dagli alunni da Francesco a Francesco si è classificato al secondo posto al Festival Nazionale Teatro Musica di Altomonte. Un risultato di grande rilevanza scaturito da un progetto all'interno della scuola dal titolo Teatrando si impara. Referenti i docenti Bancone, Andreula, Bello e Falcone, nel quale hanno partecipato 65 ragazzi. Il tutto è stato quello di prendere consapevolezza di poter socializzare ed affrontare insieme le tematiche della pace e della carità con la conoscenza e le semilitudini tra la storia di Francesco D'Assisi e quella di Papa Francesco. Da questi elementi è nato il musical presentato il 12 maggio scorso al Teatro Mercadante facendo registrare un grande successo e molti consensi. Ecco che cosa ha dichiarato in esclusiva ai micropoli di Speciale News il preside della scuola Vito Benebianco. La scuola Medio Favoncelli ha tra le sue attività prioritarie le attività teatrali. Non soltanto una forma didattica fino a se stessa ma anche una forma di recupero per tutte le altre competenze da un punto di vista scolastico. Quest'anno più degli altri anni la manifestazione che abbiamo realizzato soprattutto anche al grosso protagonismo del professor Bancone ha avuto un grandissimo successo di pubblico ma soprattutto da parte dei ragazzi. Infatti ha avuto un riconoscimento notevole anche dal festival nazionale dove i ragazzi hanno partecipato e si sono piazzati al secondo posto. Tra l'altro il musical è stato davvero molto seguito tant'è vero che prima della presenza ad Altomonte lo avete presentato al Teatro Mercadante. Certo, certo, certo. È stato molto apprezzato sia per l'originalità del testo sia per l'attualità del testo perché parlando di Francesco a Francesco quindi abbiamo, si è stato messo in rilevo la rossa e bella figura del nostro pontefice che ha provato delle corrispondenze dello santo poverello.